Era il sensore più acuto. Il 5 dicembre 1746, Giovanni Battista Perasso, un giovane genovese soprannominato Balilla, lanciò una pietra contro un drappello di soldati e colpì l'ufficiale austriaco che esigeva l'aiuto dei genovesi per il trasporto dell'artiglieria. L'insurrezione ebbe inizio. In sei giorni gli austriaci furono cacciati da Genova. Chi era Balilla? Commento. Era il sensore più acuto della forma coscienza che in quel momento esprimeva il popolo genovese.